La prima volta che sono andato allo stadio con Lucia è stata per la partita d'addio di Chiellini. È bella la nuova maglia. Scusa, vedi, chi ha la palla adesso? Il numero? 77. Con Lucia c'è stata questa conoscenza, diversa dal solito. Abbiamo iniziato a sentirci i primi giorni di gennaio, ma così, tranquillamente. Poi però, giustamente, io volevo anche vederla, solo che purtroppo mi sono rotto il crociato. Ho dovuto convincere perché non voleva venire, pensava che io stessi fingendo il dolore. E lei mi diceva, no, ma perché non ci vediamo fuori? Andiamo a prendere un caffè? E lei diceva, guarda, non posso. Poi alla fine si è convinta e ci siamo incontrati a casa mia. Ha potuto constatare che io mi potevo muovere dal divano. Quindi è stato così il nostro primo appuntamento. Grazie. Grazie.